anche qui nei lontani emirati arabi uniti è giunta voce che la meloni vorrebbe togliere il reddito di cittadinanza e difatti dall'oggi al domani le nostre inserzioni per reclutare nuovi membri del nostro team hanno iniziato a raccogliere centinaia e centinaia di candidature come se a un certo punto ci si fosse diciamo accorti della necessità di dover assolutamente trovare una occupazione beh dato che stiamo appunto ricevendo tantissime candidature per svariati profili e stiamo anche colloquiando una serie di candidati ho deciso di fare questo video per diciamo in maniera completamente disinteressata dare dei consigli molto preziosi a tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro ma che soprattutto desiderano veramente dare la miglior fare meglio la miglior prima impressione possibile durante un colloquio comunque con il primo approccio nei confronti dell'azienda verso la quale si sono candidati sapete che io sono monica perna english coach and mentor quindi diciamo che tutto l'ambito di hr e quant'altro non è strettamente correlato ai miei studi se così vogliamo dire alla mia carriera accademica ma con il mio lavoro ho senza dubbio sviluppato nel corso degli anni una serie di soft skill che oggi mi permettono di poter essere in una posizione in cui darti dei consigli molto utili quindi se stai cercando lavoro prendi carta e penna e annotati questi consigli che io stessa mi sono annotata sul mio quaderno man mano che mi imbattevo in svariate situazioni allora il consiglio primo numero uno che ti do è di mettere nel tuo curriculum tutte le informazioni che servono scrivile non evitare per esempio di scrivere la data di nascita perché qualcuno ti ha detto che sarebbe opportuno non metterla chi riceve il tuo cv vuole sapere quanti anni hai non è un'informazione o siamo più all'epoca di via col vento dove le donne non possono più dare dire quanti anni hanno forza come on siamo ormai nel 2022 questa cosa non ha alcun senso quindi non farti timore a scrivere la tua data di nascita perché giustamente chi riceve la tua candidatura si domanda quanti anni tu abbia non è un'informazione segreta non è top secret ed è giusto anche rivelarla è giusto dirla non per motivi magari per i motivi che stai pensando tu ma semplicemente perché è normale che una un'azienda un employer un recruiter voglia sapere l'età della persona che si sta candidando evita di mandare il curriculum in formato word questa è la regola base il curriculum non si manda in formato word si manda in formato pdf perché non sai mai da che dispositivo verrà aperto se viene aperto da un cellulare se viene aperto dall'ipad se viene aperto da un computer magari se tu invii un formato chiamiamolo aperto come può essere il formato di word mi può arrivare tutto sformattato e non ho subito una buona impressione perché penso che tu non abbia neanche avuto la cura di posizionare di impaginare correttamente il tuo cv quindi impaginalo per bene salva il pdf in modo tale che il pdf ovunque da dovunque da qualsiasi dispositivo venga aperto sarà sempre e solo come tu vuoi che appaia quindi questa è un'altra informazione importante quindi metti tutti i dati nel tuo cv e salvalo in pdf non inviare word non inviare pages io perché ho mac ma magari qualcun altro ha un altro un altro software comunque un altro pc un altro sistema operativo non sa che cosa sia pages manda i pdf il pdf è chiaramente la soluzione migliore poi a cosa super importante terzo consiglio leggi per intero leggi per intero quello che è la la richiesta da parte dell'azienda per esempio nel mio caso l'az quindi l'annuncio ecco non mi finiva la parola in italiano l'annuncio che viene scritto dall'azienda non leggere solo il titolo non leggere solo le prime due righe leggi per intero all'interno per esempio delle nostre dei nostri annunci delle nostre inserzioni è sempre scritto in fondo di accompagnare la candidatura attraverso linkedin o quello che sia con una video presentazione da inviare ad un indirizzo email specifico quasi mai viene fatto sono molte poche le persone che leggono interamente l'annuncio e seguono passo passo gli step richiesti dall'azienda e in quel modo così facendo si già mettono in una posizione in pole position si mettono da sole in pole position perché dimostrano di aver letto completamente l'annuncio e quindi di essere persone attente di non essere persone frettolose di non essere persone che si limitano a leggere la prima riga e poi buonasera e buonanotte quindi questa è un'altra cosa molto 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 importante da fare poi se in qualsiasi caso sia la video presentazione sia la zoom call qualora avesse una zoom call una video call o anche l'intervista di interview di persona presentati in maniera professionale a me è capitato di ricevere video di persone che si registravano così con il telefono così quindi cioè praticamente vedevo il mento oppure di persone con i capelli tutti arruffati cioè non bisogna andare dal parrucchiere per forza ma almeno pettinarsi prima di un colloquio sì ma non è perché il colloquio perché se tu andassi a casa di qualcuno incontrassi un ragazzo una ragazza per la prima volta sicuramente ti pettineresti quindi non capisco perché una persona non si dovrebbe pettinare prima di un colloquio di lavoro o prima anche di schiacciare play su una video presentazione ragazzi questo è importantissimo comunque la prima impressione fa tanto l'impressione cioè l'impressione che diamo se ci presentiamo di fronte ad una telecamera tutti arruffati sicuramente diamo l'impressione di una persona che non ci tiene molto a quello che sta facendo non pone molta attenzione a dare un aspetto needs giusto need professional che anche dimostri una certa serietà nei confronti di quello che sta facendo quindi bisogna sempre presentarsi in maniera professionale a maggior ragione se vi chiedono di fare dei video assicuratevi che ci sia della luce che l'audio sia chiaro che non ci siano rumori mi è capitato di ricevere video di persone che camminano per strada con tutti i rumori della strada ora per fare un video ci si può anche appartare 5 minuti in una stanza e registrarlo senza avere tutti i rumori di sottofondo magari video super scuri o sovraesposti cioè un minimo di anche coerenza non bisogna per forza essere persone che producono video tutti i giorni per arrivarci che l'audio debba essere pulito che non ci devono essere rumori di sottofondo che ci debba essere una luce sufficiente per vederci in faccia e che appunto il contesto debba essere decoroso ok quindi questo è importantissimo sia quando ci dobbiamo presentare in video ma anche a maggior ragione quando ci dobbiamo presentare ad un colloquio di persona quindi soprattutto per le donne un pizzico di profumo anche per gli uomini un po' di profumo senza esagerare che non altrimenti diventa anche diciamo eccessivo una presenza pulita un trucco leggero per per le donne un abbigliamento per entrambi chiaramente che sia appropriato al contesto non sportivo neanche da matrimonio ma che sia business attire no quindi che sia sicuramente un contesto professionale quindi questo è importantissimo altra cosa mi è capitato di ricevere video di persone che magari durante la registrazione del video si toccavano i capelli sbadigliavano cioè cerchiamo di mantenere un decoro per ricordarci che stiamo facendo comunque una videocandidatura è come se si entrasse nel mio ufficio per esempio ci stringessimo la mano e iniziamo a chiacchierare quindi non perché siamo a casa allora ci dobbiamo comportare come se nessuno ci stesse vedendo anche perché ci stiamo registrando dimentichiamolo poi oltre a presentarsi in maniera professionale altra cosa molto importante quando siamo in fase di colloquio è molto 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 importante presentarsi in maniera equilibrata ecco io qui mi sono scritta mi sono annotata no timido no sborone barra esaltato sì perché quello che mi è venuto di getto da scrivere durante alcuni colloqui quando facciamo un colloquio non dobbiamo né risultare troppo timidi se siamo timidi cerchiamo un minimo di combattere la nostra timidezza perché non voler dare le informazioni aver quasi trovarsi nella situazione in cui l'interviewer debba tirarti fuori le cose di bocca non è per niente piacevole perché un colloquio presuppone che il candidato sia aperto e pronto a condividere una serie di informazioni che solitamente riguardano ciò che sia stato ciò che è stato fatto in passato ciò che si sta facendo in questo momento e i progetti per il futuro di solito queste sono le tre macro aree che dovreste coprire quando qualcuno vi chiede parlami di te dimmi qualcosa di te passato presente futuro più o meno queste sono le tre cose non mettiamo l'interviewer nella posizione di dover tirare fuori le parole di bocca è veramente spiacevole quindi se ci fanno delle domande rispondere semplicemente sì no non è l'ideale dall'altra parte non facciamo neanche non diamo neanche l'impressione di essere troppo non so come diciamo vorrei utilizzare una parola che però non non dia l'accezione negativa non non inimichiamoci neanche partendo con io sono il miglior professionista del mondo perché sono sicuro delle mie capacità sono sicuro delle mie competenze cioè è giusto essere sicuri di se stessi è giusto essere sicuri delle proprie competenze ma è anche giusto in una fase conoscitiva mettere chi ci sta ascoltando nelle condizioni di poterle valutare quindi di poter condividere delle informazioni che sicuramente attestano le nostre competenze ed esperienze ma lasciare dall'altra parte anche lo spazio per valutare non invece partire con uno statement forte senza quasi neanche dare la possibilità di approfondimento replica perché quasi come se avessimo messo le mani avanti io sono il migliore non mi puoi dire nulla non possiamo neanche non sono neanche aperto un dialogo perché sicuramente io di questa cosa ne so non sto neanche tanto a parlarne con te questi sono atteggiamenti che mi è capitato con i quali mi è capitato appunto di imbattermi e non sono piacevoli quindi così come non è piacevole tirar fuori le parole di bocca dall'altra parte non è neanche piacevole avere diciamo questa boriosità troppo accentuata che chiaramente non non dà una un'ottima prima impressione no poi questa è importantissima si onesto quindi si onesto quando racconti di te stesso quando racconti delle delle tue esperienze passate per esempio non anche perché mi è capitato molte volte di magari chiedere di di fronte a degli statement di fronte a delle dichiarazioni poi di farmi delle frate di farmi degli esempi o comunque di raccontarmi delle situazioni che potessero confutare quello che era appena stato detto in realtà in quei casi poi non scena muta perché non si sapeva che cosa dire quindi cerchiate di essere onesti la sincerità la trasparenza alla fine paga sempre non bisogna pensare di dover stupire o fare per forza un interview da fuochi d'artificio in realtà essere onesti essere trasparenti parlare con il cuore parlare in maniera professionale molto aperta è quello che paga sempre quello che poi le persone cercano perché le persone cercano altre persone quindi poi il confronto avviene su questi valori molto basici no che sono poi i valori più più puri intrinsechi della relazione ultime due cose ultime due cose sono queste penultima leggete sempre l'azienda raccogliete informazioni dell'azienda con la quale state per fare il colloquio ma questo va fatto prima del colloquio non durante mi è capitato di chiedere a qualcuno che cosa sapesse della mia azienda che cosa sapesse di me che cosa sapesse della posizione che stavamo cercando e di sgamare letteralmente queste persone andare a ricercare le pagine e leggerle durante il colloquio questo è proprio un modo per autosabotarsi le informazioni per quanto concerne l'azienda alla quale ci stiamo candidando vanno raccolte prima anche perché è giusto che comunque come l'interviewer va a raccogliere delle informazioni per quanto riguarda il candidato allo stesso modo il candidato dovrebbe raccogliere delle informazioni per quanto concerne l'azienda alla quale si sta candidando prima del colloquio ed infine in ultimo ma non certo per importanza prendiamo con le pinze i suggerimenti di vari millanta guru che troviamo su su tiktok su instagram o altre piattaforme se vi è stato detto che nel momento in cui l'azienda vi chiede disponibilità per un colloquio la vostra risposta debba essere no non sono disponibile semplicemente per farvi desiderare questa ragazzi è una grande cavolata cioè se una persona invia la richiesta invia la candidatura perché sta cercando un lavoro qual è il senso di farsi desiderare qual è il senso di farsi desiderare come se un uomo mandasse ad una donna un mazzo di rose e quando poi questa gli risponde per ringraziarlo lui sparisce ma che senso ha quindi dobbiamo stare attenti a prendere i suggerimenti che ci vengono dati veramente con le pinze capire da chi arrivano questi suggerimenti mi è capitato di inviare per esempio di far inviare delle convocazioni per dei colloqui e di ricevere risposta come no non sono disponibile allora può capitare che uno non sia disponibile magari sta già sta facendo un altro lavoro magari ha un altro colloquio magari ha una visita per carità è sempre possibile ma la risposta più adeguata in quel caso è non sono disponibile quel giorno a quella tale ora ma sarei disponibile lo stesso giorno nella mattinata lo stesso giorno nel tardo pomeriggio il giorno successivo la mattina diciamo che l'obiettivo sarebbe quello di dare la più ampia disponibilità possibile del resto se stiamo cercando un lavoro e ci facciamo vedere che siamo però sfuggenti non partiamo con il piede giusto quello è ovvio dall'altra parte può esserci l'imprevisto può esserci che quel giorno la data di convocazione del colloquio noi siamo già impegnati e quindi in quel caso è sempre bene non rispondere solo no non ci sono quel giorno ma dire non ci sono a quella data in quell'orario ma ci sono in altri momenti quella è chiaramente una delle cose più importanti da fare e se qualcuno vi ha raccontato che sarebbe bene fare i fuggenti quindi dire no ci sono tra due settimane ragazzi questo vuol dire dire ciao ciao all'opportunità quindi a quel punto mi domando perché mandi la candidatura se tanto vuoi fare il prezioso non mandarla così non dai anche spazio di valutazione a qualcun altro bene ottimo allora io ho concluso con la lista dei suggerimenti che ci tenevo a dare a coloro che stanno cercando seriamente un lavoro un'opportunità di lavoro e che quindi vogliono veramente fare ci tengono a fare una fantastica prima impressione sia durante una videocandidatura sia durante un colloquio online sia durante un colloquio di persona mi raccomando mettete in pratica questi suggerimenti e vedrete che il feedback che otterrete di volta in volta colloquio dopo colloquio sarà sempre più positivo super in bocca al lupo a tutti ciao